Non l'abbè mai usato quel termine, per lei è fin troppo volgare, lei lo chiama ancora Popò! Mi scusi, aspetti a pie, ci serve la sua macchina! Non lo potete scordare! E chi ci crede? Ehi! Art, Art, così esageri! Lo so, ma ora capisco perché ti piace tanto! Lei è un cittadino modello, riavrà la sua macchina, la ringrazio molto, grazie! Su, monti! Eh, una parola!